Allo spaccio alimentare in via dell'Etruschi 2, strada statale 106 a merito Portosalvo, frutta e verdura 99 centesimi e tantissimi altri prodotti. Alcuni esempi, passata valfrutta 50 centesimi, caffè classico splendid grammi 250 per 2, 2,79 euro, pettine sceltissime coscia di suino 4,90 euro al chilo, prosciutto cotto Reartù 99 centesimi letto, parmigiano reggiano 24 mesi 1,19 euro letto, pepsicola litri 1,75 per 2, 1,79 euro, birraperoni 33 per 6, 2,99 euro, acqua naturale vera litri 2 per 5 più 1, 1,29 euro, dash lavatrice vari tipi 5,99 euro, piatti bio vari tipi linea 1000 2,49 euro, sfaccio alimentare in via dell'Etruschi 2, strada statale 106 a merito Portosalvo.